Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata dedicata al suolo. Mi presento, sono Silvia Ronchi, collaboro con il Centro di ricerca sui consumi di suolo, che è un ente istituito nel 2007 dal Politecnico di Milano, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, insieme all'Ega Ambiente e all'Istituto Nazionale di Urbanistica. Il CRCS è un ente di carattere scientifico, che ha come tema principale il suolo e quindi cercare di investigare, di indagare quelle che sono gli usi dei suoli, le variazioni di uso del suolo e capire anche le possibili azioni, strategie, politiche da mettere in atto per contenere questo fenomeno e per proporre un tipo di governo nel territorio che sia sostenibile e che riesca a tutelare le risorse naturali. Il suolo, come è già stato ampiamente ricordato, è una risorsa finita e non rinnovabile, quindi è necessario adottare delle azioni che cerchino di tutelare e di conservare questa risorsa. In questi dieci anni di attività del Centro di Ricerca abbiamo prodotto sei rapporti di ricerca nazionale, ormai è un appuntamento abbastanza consueto e abituale. In questi rapporti di ricerca noi abbiamo dato atto, quindi una sorta di resoconto dell'attività che il CRCS svolge durante l'anno, insieme a una serie di contributi innovativi e sperimentali di enti, associazioni e centri di ricerca che trattano il tema del suolo e del consumo di suolo. Oltre a ciò abbiamo poi in parallelo altre attività che svolgiamo. Abbiamo redatto degli approfondimenti tecnici specifici su alcuni contesti territoriali lombardi che richiedevano necessario un approfondimento per valutare quelle che fossero le dinamiche di variazione e di consumo di suolo avvenute ad esempio nelle aree naturali protette o lungo le asse fluviali o a ridosso dei laghi, per comprendere poi quali fossero le dinamiche in atto in alcuni contesti che richiedevano delle politiche adeguate finalizzate al contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesaggio. Oltre a ciò abbiamo fornito il nostro supporto in termini di misure, di metodi e di politiche per diverse pubbliche amministrazioni, comuni, province e regioni che richiedevano il supporto del centro per la definizione di alcuni strumenti che cercassero di contenere il fenomeno del consumo di suolo. Infine abbiamo preso parte ad alcuni studi di fattibilità promossi e cofinanziati da Fondazione Cariplo con l'obiettivo di creare, di realizzare, di mantenere delle connessioni ecologiche e quindi anche in tal senso l'approccio del centro era quello di cercare di definire una quantificazione del consumo di suolo e prevedere delle azioni che cercassero di mantenere le connessioni ecologiche. Infine la nostra partecipazione è un progetto nazionale che poi verrà raccontato da Carmelo Torre che ha portato poi alla redazione del contributo regionale sul consumo di suolo nella regione Puglia un progetto molto ampio che vi verrà poi spiegato nel dettaglio. Oltre all'attività che svolgiamo quindi prettamente di ricerca ci tenevo anche a raccontarvi di che cosa svolgiamo anche in parallelo rispetto alla redazione del rapporto. è un'attività abbastanza consistente che era nella missione del centro quindi quella di diffondere, di comunicare, di promuovere che cos'è il suolo, qual è il valore del suolo e che cosa bisogna fare in tal senso per cercare di tutelarlo di promuovere delle azioni che vadano verso la conservazione del suolo. Partecipiamo ovviamente a conveni tipo tecnico dove il linguaggio è certamente scientifico quindi anche la platea è, tra virgolette, ristretta dove cerchiamo di portare l'esperienza del centro di ricerca per avviare un confronto continuo a prendere anche delle nuove sperimentazioni o vedere gli approcci che vengono utilizzati da altre regioni altri stati o altri centri di ricerca e quindi riuscire a contaminarci se così possiamo usare questo termine contaminarci e dialogare con loro per vedere quale metodo comune possiamo utilizzare e adottare che sia sempre finalizzato alla conservazione della risorsa. Oltre a ciò abbiamo una serie invece di eventi pubblici dove ovviamente il linguaggio è completamente diverso è un linguaggio molto più accessibile è un linguaggio molto più facile è un linguaggio più agile che ci vengono richiesti dalle pubbliche amministrazioni da associazioni che non sempre sono associazioni ambientaliste ma associazioni attente al tema del suolo e della sua conservazione dove il centro di ricerca vuole cercare di mettere in luce appunto perché è importante tutelare il suolo che cos'è il suolo spesso non si conoscono bene i caratteri o perché è importante mantenere questa risorsa e cercare di far vedere anche come la preservazione del suolo sia strettamente connessa anche al benessere umano alla qualità della vita alla vivibilità delle città dove noi viviamo infine l'ultima attività riguardano i tavoli di lavoro abbiamo partecipato lo scorso mese alla biennale dello spazio pubblico che c'era a Roma dove ovviamente seduti allo stesso tavolo ci sono più enti, associazioni, università che cercano di dialogare ovviamente spesso l'approccio disciplinare è completamente differente quindi il senso anche di questi tavoli è quello di cercare di condividere una metodologia unitaria condividere le definizioni perché come si diceva prima l'entake, soil sealing sono abbastanza differenti quindi serve che ci sia un linguaggio comune anche tra di noi del mondo scientifico accademico per poi poterlo spiegare anche alla popolazione ai soggetti interessati che ci sia uno stesso metodo una stessa definizione il rapporto 2017 tra le novità che abbiamo voluto inserire sta quello di istituire un comitato scientifico un comitato scientifico formato da 10 membri appartenenti a diversi enti con diverse formazioni e diversi approcci che ci ha supportato nella definizione nella selezione di contributi di carattere innovativo da poter includere nel rapporto abbiamo 37 contributi con 68 autori provenienti da oltre 34 istituti enti di ricerca, pubbliche amministrazioni eccetera che secondo noi avevano un carattere rilevante potessero effettivamente dare un contributo innovativo a questo rapporto il rapporto di ricerca è articolato in quattro sezioni tematiche su due diversi livelli territoriali la prima parte è dedicata all'Europa che poi vi segherò nel dettaglio mentre la seconda, la terza e la quarta parte è dedicata invece al contesto nazionale investigando alcuni temi specifici per quanto riguarda la sezione europea che è stata redatta in collaborazione con il centro comune di ricerca il Joint Resource Center della European Commission ha voluto mettere in evidenza quelle che fossero le politiche adottate dai diversi stati membri per preservare la risorsa a suolo da diverse forme di minaccia non abbiamo voluto indagare unicamente lenteico, il soil sealing ma abbiamo deciso di estendere l'analisi anche su tutte le altre forme di minaccia per il suolo la contaminazione, la salinizzazione l'erosione e via dicendo questo perché ci interessava capire come in assenza di una direttiva quadro per la protezione del suolo di livello europeo i diversi stati abbiano cercato in qualche modo di mettere mano a livello nazionale focalizzandosi sulla protezione del suolo quindi abbiamo voluto vedere come diversi stati hanno adottato delle misure se ci sono delle strategie delle azioni e via dicendo per tutti questi temi abbiamo readatto dei cartogrammi che riescono a darci un'indicazione di come si distribuiscono queste minacce nei 27 stati membri le minacce sono distinte in tre livelli di intensità basso, medio e alto che riescono a dare in modo abbastanza immediato e agile una distribuzione di come si sviluppano queste minacce nella comunità europea per ogni stato membro è stato redatto poi una scheda tecnica che mette in evidenza il livello di intensità delle singole minacce per il suolo e per le minacce con un livello di intensità elevato abbiamo voluto investigare le politiche le strategie messe in atto dai singoli stati non ci siamo però unicamente fermati agli strumenti di tipo regolativo quindi le normative le leggi o le direttive ma abbiamo voluto estendere la selezione anche valutando degli strumenti economici monetari fiscali strumenti informativi quindi se c'è stato il coinvolgimento o la comunicazione alla popolazione di alcune forme di minacce quindi cercare di istruire di formare di diffondere la consapevolezza rispetto a alcuni temi e in seguito abbiamo valutato anche i vari strumenti di monitoraggio per capire se c'è una quantificazione costante legata al processo di contaminazione o di minaccia di alcuni fenomeni e anche se gli stati hanno avviato delle ricerche delle innovazioni e delle sperimentazioni che cercassero di tutelare la risorsa suolo cosa è emerso da questa prima indagine è che le politiche e le misure per la protezione del suolo adottate dai diversi stati sono per lo più legati al suolo tipo agricolo quindi si concentrano prevalentemente su il suolo tipo agricolo che è quello che si diceva anche prima è quello più minacciato quindi più intaccato anche in Italia è quello più consumato e sicuramente però l'attenzione dei diversi stati alla protezione del suolo agricolo è sicuramente connessa con una serie di politiche promosse a livello europeo che cercano di contenere alcune minacce dedicate al suolo agricolo e queste politiche promosse a livello europeo sono state in successione recepite declinate nei singoli stati membri sto parlando ad esempio della direttiva nitrati delle direttive per i pesticidi e l'utilizzo di altre sostanze chimiche in agricoltura il suolo naturale quindi diversamente dal suolo agricolo se ci sono delle forme di protezione sono per lo più riferite al valore forestale al valore boschivo e quindi per la produzione di biomassa che hanno queste tipologie di suolo non ci sono invece una protezione ad ampio spettro del suolo naturale le minacce invece legate al consumo di suolo e all'impermializzazione trovano per lo più una ricaduta in alcuni strumenti quindi strumenti normativi che sono strettamente connessi alla pianificazione territoriale quindi molti stati hanno cercato di includere queste tematiche negli strumenti di regolazione del territorio quindi negli strumenti di governo del territorio gli strumenti sono per lo più di tipo regolativo normativo e quindi prevedendo degli oneri fiscali quindi utilizzando questa leva per cercare di contenere limitare o mitigare il consumo di suolo ovviamente come ricordava anche Damiano di Simini in apertura le modalità di gestione di governo delle diverse minacce per il suolo sono molto diversificate da uno stato all'altro questo anche in considerazione delle diverse soli d'allarme che i singoli stati hanno ricordavamo prima legati alle contaminazioni per esempio e quindi ovviamente ci sono molte disparità negli strumenti che sono stati adottati e implementati una nota diciamo positiva è che quasi tutti gli stati sono dotati di strumenti di monitoraggio monitoraggio che non è unicamente di tipo quantitativo ma qualitativo e spesso questi strumenti vengono richiesti all'interno dei processi decisionali a supporto delle scelte quindi bisogna valutare prima qual è l'andamento qual è il trend qual è lo stato di una determinata minaccia per poter prendere poi delle decisioni minaccia che non è valutata appunto solo come quantità pensiamo al consumo di suolo ma anche su quale suolo consumiamo in termini di caratteri pedologici e via dicendo il rapporto invece tra qualità del suolo e benessere umano che di solito è estremamente connesso al tema dei servizi ecosistemici è ancora abbastanza poco riconosciuto e lo troviamo poco presente negli strumenti adottati dagli stati membri passando ora alle sezioni invece dedicate al rapporto italiano la prima parte riguarda il consumo di suolo in Italia quindi abbiamo richiesto dei contributi in alcuni casi di carattere nazionale come quello di Ispra o di Istat in altri casi invece di contesti differenti regionali provinciali o comunali che potessero dare un supporto per definire ancora che cos'è il consumo di suolo quali sono le dinamiche in atto qual è il processo di variazione in corso cosa è messo da questa indagine è che sicuramente l'approccio quantitativo non può essere l'unico da dover adottare ma serve una combinazione tra la quantità e la qualità questo perché sicuramente è importante capire la velocità con cui si consuma il suolo capirne la quantità capire di che cosa stiamo parlando di quanti ettari consumiamo al giorno però è fondamentale anche comprendere quale suolo consumiamo dove avvengono le trasformazioni e quindi anche capirne poi le morfologie territoriali di questo processo il secondo tema che abbiamo visto che emerge molto nei contributi che abbiamo richiesto a diversi autori è quello della scalabilità quindi cercare di avere delle analisi territoriali di quantificazione e di qualificazioni che riescano poi a trovare un riscontro negli strumenti normativi che poi possono agire quindi possono avere effettivamente una valenza nelle scelte di governo che siano effettivamente sostenibili dal punto di vista ambientale il monitoraggio come lo raccontavo anche prima a livello europeo anche in questo caso risulta fondamentale avere una contabilizzazione locale delle variazioni d'uso del suolo in modo tale che ci sia un monitoraggio costante delle trasformazioni si riescono a prevederne gli effetti e poi anche le conseguenze cercare di limitare e contenere con una consapevolezza alla base le terminologie le definizioni ovviamente è un tema che abbiamo trovato abbastanza spesso quindi non solamente il land take e il soil sealing ma c'è ancora abbastanza confusione tra la copertura l'uso e la destinazione d'uso del suolo quindi sicuramente su questo aspetto bisogna ancora fare chiarezza e cercare di mettere a fuoco effettivamente che cosa si intende con tutti questi termini che noi iniziamo a usare e che sicuramente è necessario avere delle definizioni comuni emerge molto anche il fatto di utilizzare degli indicatori morfologici per comprendere non solamente quanto si consuma dove si consuma ma anche quali sono poi gli effetti del consumo di suolo le morfologie che si creano come l'urbanizzazione si distribuisce all'interno del territorio e quindi vedere tutti i vari fenomeni di sprawl sprinkling e via dicendo la terza sezione è dedicata alla raccolta di una serie di esperienze territoriali su temi differenti il primo riguarda le politiche gli strumenti e i progetti per la valutazione qualitativa delle trasformazioni d'uso dei suoli e il secondo aspetto invece è più legato alla pianificazione urbanistica territoriale e paesaggistica raccogliendo una serie di sperimentazioni con scale completamente differenti alcune scale regionali alcune seguono ad esempio le aste fluviali quindi non hanno una scala amministrativa specifica che è quello che poi il centro ha sempre anche promosso quindi andare al di là dei confini amministrativi o scale anche molto puntuali quindi azioni veramente locali che però messe insieme come si dice sempre dal locale al globale possono comunque contribuire alla protezione del suolo cosa emerge da queste esperienze territoriali sicuramente che il tema dei servizi ecosistemici è abbastanza ricorrente quindi questo è un aspetto molto positivo dove i servizi ecosistemici vengono visti come degli indicatori per la sostenibilità delle trasformazioni da utilizzare ex ante quindi prima di prendere una decisione territoriale ovviamente il fatto che si possano valutare si possono quantificare in seguito spazializzare quindi dare una mappatura una distribuzione territoriale di questi servizi è sicuramente uno strumento molto utile per poter prendere poi delle scelte che siano consapevoli di una serie di servizi che vengono forniti dagli ecosistemi a beneficio del genere umano il tema dei servizi ecosistemici nonostante la parte di qualificazione di valutazione di mappatura sia abbastanza in evoluzione con dei progressi anche notevoli manca poi spesso una ricaduta nei piani territoriali quindi abbiamo una valutazione abbiamo una mappatura ma come poi queste si inseriscano in un processo di costruzione delle scelte su questo aspetto sicuramente bisogna lavorarci ancora perché non sempre si riesce a trovare la modalità migliore e più efficace poter poi utilizzare questi strumenti nella definizione delle scelte un altro aspetto sempre correlato ai servizi ecosistemici riguarda la valutazione spesso prevalentemente ecologica ma emergono anche una serie di contributi che mettono in luce le difficoltà le opportunità e le criticità nell'utilizzo di una valutazione economica quindi dare una quantificazione monetaria ai servizi ecosistemici sicuramente anche questo aspetto noi non abbiamo una soluzione qui in questo momento ma è sicuramente da dover indagare maggiormente per definire effettivamente cosa si può fare anche in tal senso e qual è la valutazione migliore da dover utilizzare in queste esperienze territoriali emerge molto anche il ruolo delle infrastrutture verdi e blu come progetto territoriale che iniziano a emergere alcune esperienze importanti per il mantenimento dei servizi ecosistemici per cercare di promuovere o di mantenere alcune funzionalità che spesso sono state compromesse magari con fenomeni di artificializzazione e che con questi disegni quindi queste connessioni che includono anche sicuramente il valore ecologico delle reti verdi si può prevedere un mantenimento di questi servizi ecosistemici l'ultima parte è dedicata ai quadri legislativi quindi volevamo mettere in luce come le diverse regioni hanno cercato di proporre delle strategie delle azioni delle normative per il contenimento per la limitazione del consumo di suolo questo ovviamente era l'obiettivo teorico su questa parte mi dilungo meno perché ci sarà poi una sezione pomeridiana che sarà coordinata dal professor Arcidiacolo dove verranno proposti degli spunti di riflessioni in merito a queste tematiche abbiamo raccolto diversi contributi se ne parlerà nel pomeriggio per cercare di mettere in luce quali sono le strategie e i diversi approcci adottati dalle singole regioni strategie di rigenerazione vedere cosa si intende quando si parla di consumo di suolo netto pari a zero o i nuovi standard urbanistici quindi non più legati alla quantificazione ma anche in questo caso l'introduzione di sistemi di qualificazione degli standard io concludo la mia presentazione ricordandovi che il rapporto sarà poi distribuito in una serie di librerie specializzate sul tema e sarà disponibile sul sito di Inu Edizioni anche in formato digitale con un costo ovviamente ridotto perché rimane virtuale concluso lascio la parola a Carmelo Torre per la presentazione del rapporto grazie grazie a Silvia Ronchi per aver illustrato l'attività del centro e il rapporto intanto che si prepara il professor Torre del Politecnico di Bari mi pare importante notare sulle comparazioni delle politiche europee raccontate nella prima parte del rapporto come emerga sempre più spesso un tema su cui il centro varie volte si è espresso si è intervenuto come sia importante immaginare a politiche che si combinano non solo politiche di tipo regolativo quindi attraverso la limitazione degli usi del suolo ma usare politiche fiscali ad esempio che hanno degli effetti molto spesso importanti nel disincentivare i processi di consumo di suolo e poi ancora l'importanza delle pratiche quindi della pianificazione territoriale paesaggistica come strumento di limitazione del consumo di suolo che anche in assenza di un quadro legislativo ancora convincente è in grado invece di garantire dei risultati importanti delle esperienze importanti in questo senso dalle quali anche trarre delle lezioni significative Carmelo